Ciao a tutti, sono Alessandra Ciavarria, siamo arrivati alla nostra lezione numero 20 del corso di archeologia medievale dove parleremo di salute e condizioni di vita in età postclassica. La conoscenza dello stato di salute delle popolazioni del passato ha fatto un immenso passo avanti negli ultimi anni grazie alla diffusione delle analisi bioarcheologiche che includono gli studi delle ossa e degli isotopi stabili e anche quelle molecolari, imprescindibile per identificare particolari malattie, grazie alla possibilità di individuare e sequenziare il DNA antico di alcuni batteri. Tutti questi studi potrebbero permetterci di ricostruire la diversità e la complessità delle condizioni di vita di un singolo individuo e di confrontarlo con altri in relazione alla loro posizione sociale. Tuttavia, per il periodo postclassico, la maggior parte delle sepolture oggetto di analisi antropologiche appartiene a campioni specifici, rinvenuti presso edifici di culto cristiano o anche in necropoli longobarde. Si tratta quindi di un campione selezionato, riferibile a gruppi privilegiati. Per questo motivo, nel discutere i risultati delle analisi bioarcheologiche, bisogna tenere sempre presente il contesto archeologico, prima di azzardare conclusioni più generali. È stato proposto, ad esempio, che dopo la fine dell'impero ci sia stato un età d'oro per la popolazione, perché si osserva, in alcuni studi, un miglioramento della statura media degli scheletri da collegare a un miglioramento delle condizioni di vita, di alimentazione e igiene. In realtà, questi dati dipendono del campione studiato, che appartiene, come dicevamo, alla popolazione longobarda, guerriera, appena arrivata in Italia, e anche a individui maschi sepolti nelle chiese. Non possono essere quindi considerati un esempio valido per tutta la popolazione che viveva, in larga misura, in condizioni assai più disagiate, sia per la salute, sia per l'igiene e l'alimentazione. Lo stesso problema si riscontra nell'apparente squilibrio documentato in alcuni studi tra individui di sesso maschile e sesso femminile. Nei cimiteri longobardi, la mancanza o il numero ridotto di femmine potrebbe dipendere del carattere nomade e guerriero della popolazione, che includeva un numero più basso di femmine. Mentre nei cimiteri presso le chiese, gli nomati sono in genere identificabili come membri della gerarchia ecclesiastica, quindi maschi, o personaggi di alto status sociale, anche in questo caso maschi. Le donne erano sepolte altrove e un maggiore equilibrio tra maschi e femmine le troviamo soltanto nelle chiese funerarie a carattere familiare. Per risolvere questo problema sono necessari studi di ampio respiro, che includano cataloghi con un ampio numero di cimiteri, come quelli che a Padova sviluppiamo da anni, grazie a il contributo di numerosi studenti che su questo tema hanno sviluppato le loro tesi di laurea e che hanno permesso di documentare in Italia settentrionale più di mille cimiteri con un numero stimato di 20.000 tombe. Così il progetto CAMIS dimostra, senza ombra di dubbio, che le sepolture nelle chiese e le sepolture dei cimiteri longobardi sono solo una minima parte di un problema, il tema dei cimiteri molto più ampio e che per conoscere com'era la popolazione alto medievale in questo territorio, come in tanti altri, bisogna realizzare analisi di tutto la popolazione o almeno di diverse tipologie di cimiteri. Dal punto di vista della salute e a parità di status sociale, numerose analisi osteologiche, e cioè delle ossa, rivelano che dal VI secolo le condizioni di vita invece peggiorano notevolmente in Italia. Con un marcato incremento delle lesioni dentali dovute in genere a un aumento delle carie e più in generale un deperimento della salute causato da forte malnutrizione originata da un elevato consumo di carboidrati e da peggiori condizioni igieniche che possiamo osservare numerosi elementi degli scheleti, tra cui i denti con dei casi di ipoplastia dentale o spesso la presenza di criva crani o criva orbitali, aspetti che in seguito vedremo cosa sono, come si identificano e che cosa significano. Un altro elemento che ci parla di condizioni di malnutrizione è il rachitismo e cioè questo elemento, questa curvatura delle ossa che si osserva in persone con una carenza importante di vitamina D. Condizioni particolarmente disagiate evidenziano gli scheletri rinvenuti in cimiteri all'interno delle città, in piccoli gruppi e in aree produttive spesso collocate nei pressi di antichi edifici pubblici romani. A Verona, come a Brescia, in scheletri databili tra metà VI e VIII secolo, è stata riscontrata la presenza di criva orbitalia e criva crani, riconducibili a carenze nutrizionali protratesi nel tempo. Lo smalto dentale di alcuni individui mostra inoltre numerose linee di ipoplasia che testimoniano una lunga sequenza di episodi di stress dovuti a un'alimentazione scarsa o inadeguata tra il primo anno di vita e i 5-6 anni di età. I valori del rapporto tra stronzio e carbonio, molto elevati in alcun individuo, sembrano attestare un'alimentazione basata quasi esclusivamente sul consumo di cereali, verdure e ortaggi. Gli alti valori dello stronzio hanno consentito di ipotizzare il frequente consumo di pesce di acqua dolce, mentre quelli della concentrazione di zinco risultano molto bassi rispetto allo standard, probabilmente perché quei soggetti non potevano permettersi frequenti di consumi di carne, latte e latticini, cioè formaggio, che contengono elevate quantità di questo oligoelemento. Presentano inoltre numerose infiammazioni che dimostrano carenza di vitamina C, tra altre malattie. Questi individui trovati in piccole necropoli all'interno delle città in genere sono morti in giovane età. Alcuni, prima di raggiungere i 20 anni, hanno quindi segni di uno stato di salute molto precario. Il fatto che queste sepolture si trovino generalmente disperse in aree pubbliche romane, poi passate con molta probabilità a far parte della corte reggia, ha fatto ipotezzare che appartengano a dipendenti o servi soggetti a condizioni di lavoro assai dura e a un'alimentazione molto povera. Diversamente, nel sito di San Giusto, a Foggia, possiamo confrontare distinte aree cimiteriali in cui sono stati sepolti in condizioni di salute molto diverse, senza altro legate allo status sociale. Nella basilica funeraria e nel nartece di questo complesso ecclesiastico identificato come sede di un episcopio rurale all'interno di una stessa proprietà fiscale, le tombe appartengono prevalentemente a sepolture di maschi adulti, con uno stato di salute discreto. Quelli della navata Nord mostrano bassi gradi di intensità delle entesi ossee, unitamente a una biomassa ossea in percentuale elevata, che deporrebbe per una condizione di sedentarietà e di buone condizioni nutrizionali sin dalla infanzia. Un relativamente maggior impegno occupazionale risulta invece per i soggetti sepolti nella navata Sud, per i quali si rileva anche un apporto nutrizionale non altrettanto buono, ma comunque erano messi abbastanza bene. Quelli meno agiati sono sicuramente gli individui seppeliti fuori della chiesa, tra il battistero e le terme. Palesano una maggiore incidenza di carie, perdite dentarie in vita, una alta percentuale di usura dentaria di grado severo, parametri riconducibili a condizioni igienico-sanitarie carenti, tipiche di un gruppo socialmente svantaggiato che si alimenta soprattutto con cereali poveri in minor misura di tuberi, radici e cibi più grezzi. Quindi abbiamo una chiesa con delle sepolture tutto sommato privilegiate, appartenente probabilmente a membri del clero o alle aristocrazie del territorio e poi quelle dei servi, dei lavoratori di questa proprietà che sono messi molto peggio e non si seppeliscono in chiesa. Tra le malattie poi individuate in questo settore, chiamiamolo rustico, si segnala un caso di brucellosi, patologia contratta attraverso il consumo di latte e derivati di animali infetti, assai comuni nel mondo agricolo pastorale. Più in generale ci sono però delle patologie identificate nelle tre aree, in particolare l'iperostosi porottica in un 53% dei casi osservabili. Le cause di questa malattia, che possiamo anche denominare anemia, possono ricercarsi nella carenza di ferro, pescar suo apporto di carne e di legumi o in alcuni parassitosi contratte per la prossimità con gli animali domestici, ma anche sono vinculate a volte molto frequente tra i gruppi stanziati nei presi di zone paludose. Un altro caso certamente interessante è quello del cimitero presso la chiesa tardo-antica suburbana di San Pietro a Canosa, sempre in Puglia, dove l'analisi paleopatologica condotta su 49 soggetti, dei 60 recuperati, quindi un buon numero, ha messo in luce una situazione abnorme, sia per la frequenza che per la gravità dei quadri patologici riscontrati. Questa particolarità potrebbe avvalare l'ipotesi che il sito, per la presenza del vescovo sabino o delle sue spoglie mortali, costituisse una sorta di lourde del Medioevo, dove i malati incurabili accorrevano cercando la guarigione. In effetti i vari indicatori, mostrerebbero un campione socialmente eterogeneo, il cui denominatore comune era una condizione di malattia cronica o invalidante, di fatto incurabile dalla medicina di quell'epoca. La presenza infine di un individuo sottoposto a un'operazione chirurgica al cranio rende plausibile che nel sito ci fosse anche un senodocchium frequente in complessi cristiani suburbani di questo tipo. Se vogliamo sintetizzare quali sono le nuove analisi che in questi veramente recentissimi anni hanno influenzato la nostra conoscenza della salute e del sistema di vita delle popolazioni del passato, dobbiamo inizialmente cominciare dall'archeologia. È fondamentale in tutti questi studi una analisi archeologica del contesto che ne permetta una corretta identificazione e interpretazione. Dalla topografia del cimiteri, che tipo di cimitero è, dove si trova e dove si trova la tumba che noi stiamo studiando, e anche quando ci sono le caratteristiche dei corredi che ci permettono di inquadrare il difunto in un determinato status sociale. È molto importante anche poter datare lo scheletro che andremo analizzare, sia e sarebbe opportuno con la realizzazione di datazioni di isotopi instabili e in particolare il carbono 14, ma anche l'analisi dei corredi più raramente, più difficile perché non permettono delle datazioni eccessivamente specifiche, delle tipologie tombali. L'antropologia, invece, le analisi osteologiche ci permettono di conoscere diverse elementi. La ritualità attraverso l'archeotanatologia, il sesso o l'età della morte con la demografia e lo stato di salute e gli stress occupazionali, oltre ad altri elementi, attraverso la paleopatologia. Perché dico che lo scavo è fondamentale? Perché gli scontesti funerari tendono ad essere abbastanza complessi per quello che riguarda l'età postclassica, dove troviamo molto spesso delle sepolture molteplici. Solo la presenza di un archeologo con grandi conoscenze di antropologia e dello scavo, in particolare dei resti umani, è capace di individuare tutta una serie di elementi che per noi sono fondamentali. Come ad esempio, come fu deposto l'individuo, vediamo ad esempio tutte le diverse modalità di collocazione delle mani e come le ossa di questo individuo si sono trasformate mosse a partire dei processi post deposizionali, che ci permette anche di comprendere alcuni aspetti relativi alla ritualità, cioè il momento in cui si tene il funerale. L'archeologo antropologo e lo scavo accurato delle tombe permette di comprendere se uno scheletro appartiene a un individuo sepolto in un contesto vuoto, cioè all'interno di una struttura che non era riempita di terra come ad esempio una cassa o un sarcofago e può anche comprenderlo da solo con la presenza e la collocazione delle ossa. Spesso molti archeologi pensano che la presenza di casse si può individuare da i chiodi. Questo non è detto assolutamente perché ci sono moltissime tipologie di bare che non avevano dei chiodi. Queste in genere scompaiono con il tempo e solo raramente ne troviamo dei frammenti che potremo eventualmente analizzare per sapere che tipo di legno era stato utilizzato. Ma l'elemento principale è la collocazione delle ossa nel momento dello scavo, così come anche ci potrebbe permettere di comprendere se l'individuo era stato ad esempio sepolto in un sudario e quindi le ossa si trovano compresse o meno. Imprescindibile è la presenza dell'antropologo nel caso di sepolture molteplici. Come dicevo prima nel Medioevo è frequentissima la presenza di sepolture molteplici. Due, tre, cinque o persino come in questa tomba che abbiamo scavato presso il battistero del Duomo una ventina di individui. Saper identificare a che individuo appartiene ogni ossa è un lavoro molto complesso ma imprescindibile poi se vogliamo comprenderne il momento in cui furono deposti anche si tratta di scheletri deposti in un periodo di tempo molto ampio quindi si apriva la tomba ogni tot anni o sono tutti morti sepolti più o meno in uno stesso momento a causa di un'epidemia o di un evento bellico. Solo lo scavo accuratissimo e molto attento ci può aiutare ad arrivare delle conclusioni su questo aspetto. Sapere se gli scheletri appartengono a donne, uomini è fondamentale anche l'età in cui quell'individuo è morto e quindi la speranza di vita in quel preciso cimitero o in un'area geografica determinata o anche l'antropologo ci può dire subito dopo un piccolo analisi l'altezza media che poteva arrivare quell'individuo che ricordate l'altezza è in rapporto alle condizioni di vita e l'alimentazione delle popolazioni. Ecco ricordiamo che oggi l'altezza media dell'individuo in tutta Europa è molto alta ma che fino all'inizio del ventesimo secolo praticamente le condizioni di vita, di alimentazione e di igiene della maggior parte della popolazione europea erano assai inferiori a quelle dell'epoca romana, quindi possiamo vedere dei cambiamenti importanti in non tantissimi anni. L'antropologo attraverso le analisi delle ossa ci può aiutare a comprendere, può vedere delle malattie che ebbero le persone in passato e non le persone qualsiasi se non quel preciso scheletro da malattie infettive come la tuberculosi o la sinusite o la periostite o anche delle particolari trasformazioni che soffrono le ossa nel lungo della vita di un individuo a conseguenza di attività fisiche repetitive che provocano cambiamenti ad esempio nella colonna vertebrale se il lavoro fisico era molto duro può essere anche trasformazioni nelle mani a causa di un lavoro manuale molto intenso o trasformazioni ad esempio nelle cosce o nella diciamo unione tra diverse parte dello scheletro come queste in rapporto a l'equitazione che era un'attività come sappiamo legata ai più altri membri della società a partire dell'epoca postclassica sia nell'alto medioevo i guerrieri, i longobardi, i gotti eccetera ma anche nel basso medioevo quindi trovare questo tipo di stress occupazionale ci permette anche di individuare comunque lo status sociale di un individuo perché è la la possessione di un cavallo non era qualcosa che apparteneva a tutte le persone ecco l'analisi degli scheletri può anche individuare dei traumi dei colpi sofferti da un individuo perché li hanno inflitto colpi di ascia di spada o di altri tipi di armi e come vedete qui anche individuare che tipo di armi si trovava è un po alla detettive da dove è stato inflitto quel colpo ma anche possiamo vedere se il colpo è stato mortale o se l'osso invece ha continuato diciamo a crescere e si è come dire saldato e quindi è stato un colpo non mortale e la persona comunque è continuata a vivere ma anche traumi accidentali come molto frequentemente rotture di costole in alcuni casi anche provocate ad esempio per una caduta di cavallo e oltre a l'archeologia e tutte le analisi e tutte le informazioni che ci vengono dalle analisi osteologiche oggi possiamo anche contare con tutta una serie di analisi molto più sofisticate e purtroppo costose come quelle del dna all'isotopistabili o vedremo quelle più innovative ancora lo studio del tartaro il del dna ne abbiamo già parlato in altre occasioni e fondamentale per comprendere l'origine genetica di degli individui ma anche altri aspetti come i rapporti di parentella tra l'individuo in una necropoli sapere se individui erano collegati familiarmente o persino all'interno delle tombe molteplici che spesso non riusciamo a comprendere se si tratta di un uso familiare di una stessa sepoltura o se invece si trattava dell'uso ad esempio successivo ogni volta che moriva un determinato individuo lo collocavano in una tomba soprattutto nei casi di aree molto richieste come potevano essere le chiese il dna ci permette anche di individuare delle malattie che non hanno lasciato traccia nelle ossa perché una malattia come la tuberculosi o la sinusite lasci traccia nelle ossa deve essersi protrattesi nel tempo invece individuare il dna di ad esempio la peste e ci permette di comprendere di cosa era morto un individuo e la maggior parte degli scheletri che troviamo in realtà non sappiamo di cosa sono morti quindi le analisi di dna sarebbero estremamente utili ma sono molto costose gli isotopistabili ne abbiamo già parlato ci permettono di individuare sia l'origine geografica in alcuni casi di alcuni individui e soprattutto quello che questi individui mangiavano del tipo di cereale se mangiavano più o meno proteine o pesce e ci permette anche di vedere come è cambiata la dieta di un determinato individuo nel tempo perché a partire dei denti conosciamo la dieta nelle fasi della infanzia e invece nell'analisi delle costole quelle della morte quindi possiamo vedere una evoluzione e se realizzato in cimiteri ampli possiamo vedere se i morti di un determinato cimitero mangiano tutti la stessa cosa o se ci sono delle differenze sociali particolari e anche possiamo confrontarlo con diversi cimiteri di una stessa epoca o vedere la evoluzione in uno stesso territorio in cimiteri consecutivi cronologicamente quindi ci dà molti dati su quello che mangiavano le persone forse gli analisi più innovativi che ci sono in questo momento sono quelli che riguardano le patologie dentali e in particolare lo studio del tartaro ecco che come sapete è diciamo tutta la porcheria tutti i resti organici che rimanevano nei denti della popolazione prima che questi come facciamo oggi se le cominciassero a pulire sistematicamente le analisi dei denti sono particolarmente importanti e come dire più sicure che altro tipo di analisi perché i denti sono l'elemento che maggiormente resiste alla distruzione sia chimica che fisica e quindi a differenza spesso spesso ma non sempre delle ossa si conservano all'interno delle sepolture i denti ci forniscono informazioni demografiche e cioè ci dicono sia il sesso e l'età alla morte di un individuo dello stato di salute come vedevamo prima ci parlano di stress nutrizionali si hanno passato fame da piccoli e anche ci parlano della loro igiene orale come erano messi ci dicono alcune cose relative alle abitudini alimentari come vedremo sull'inquadramento genetico a volte sulla mobilità e anche altre attività non alimentari svolte in vita perché ancora oggi usiamo i denti a volte come una terza mano per la fabbricazione di oggetti o strumenti o semplicemente per tagliare il filo o chissà e anche ci parlano come vedremo di pratiche culturali e rituali ci sono alcuni gruppi e oggi ancora in alcune zone del mondo ma esistevano già nel medioevo che si modificavano artificialmente i denti per una questione di bellezza i denti anche possono essere utilizzate per datare la tomba quindi misurare il radiocarbonio e altre molte possibilità e per quanto riguarda l'età dei defonti lo sviluppo e l'eruzione dentale ci permettono attraverso un'analisi macroscopica cioè senza tante analisi poter determinare l'età dei soggetti subadulti analizzati. Sappiamo che nell'uomo esistono due dentizioni una decidua che è composta da 20 denti distribuite sulle due arcate e poi quella permanente per 32 denti in totali e la prima i denti iniziano a formarsi circa intorno al quinto mese e quindi dentro all'utero e vengono completamente sostituiti dai denti permanenti intorno agli 11-12 anni di età. Nella seconda fase i denti iniziano a formarsi intorno alla nascita e si ha la completa eruzione intorno ai 18 anni con il terzo molare. Per i soggetti adulti dopo la completa eruzione dei denti è poi possibile osservare il grado di usura delle superfici dentarie per determinarne anche il possibile range di età alla morte. Quindi se troviamo un bambino piccolo a partire dello studio dei denti possiamo dire se è nella prima o nella seconda dentizione e poi vedendo nell'usura possiamo calcolare quelli più anziani. I denti ci possono fornire informazioni sullo stato di salute orale e attenzione la bocca e ve lo avranno anche detto tante volte è intimamente connessa alle condizioni generali di salute dei soggetti poiché questa è il punto di accesso al nostro corpo e ne riflette lo stato di benessere oggi come ieri. Quindi sui denti è possibile registrare diverse malattie e anomalie comuni come la carie, gli ascessi, le perdite di denti, l'ipoplasia o il tartaro. Analizzando abbiamo detto i componenti della dentina possiamo fare gli studi di isotopi stabili dei primi anni di vita dei soggetti sia ricordiamo per la dieta che per la provenienza. Forse quello che sta essendo sviluppato più recentemente sono gli studi sul tartaro che si forma per la mineralizzazione della placca batterica e si deposita sulla superficie dei denti. Noi oggi ce li laviamo quindi è più difficile che questo resti ma ogni tanto andiamo anche dall'igienistia dentale perché ce li tolgano con una sorta di micro martello meccanico perché è rimasto proprio attaccato mineralizzato sui denti. Lo studio del tartaro che non potranno fare poi gli archeologi di futuri su di noi consente di riconoscere tutte le particelle presenti nell'ambiente e dovute alle attività umane che vengono a contatto con la bocca perché ce le mangiamo ma anche accidentalmente attraverso la respirazione orale e l'uso dei denti come dicevamo come terza mano. Questi elementi nel tartaro quindi possono formire un utile confronto sia per la ricostruzione dell'ambiente si trovano molto frequentemente dei polini di piante che l'uomo non mangiava ma che aveva respirato oralmente o anche per la ricostruzione della dieta. Se poi analizziamo il dna di questo tartaro possiamo scoprire la presenza di batteri che sono rimasti fossilizzate nei denti. Quello che è più interessante è che questi batteri possono in alcuni casi parlare di malattie dei polmoni o del sistema gastrointestinale. elementi che tutti sappiamo nelle sepolture antiche non sono conservati ma che a partire del tartaro potremo eventualmente ricostruire. Ecco lo studio del dna ci può anche fornire se le facciamo sui denti informazioni sulla diagnosi di sesso sui legami di parentela e sulla identificazione come dicevamo degli agenti patogeni delle patologie infettive. Un'analisi molto recente di una sepoltura femminile scoperta in un cimitero tedesco all'interno di un monastero ha anche permesso di individuare dei resti dei polveri di lapislazuli ad esempio. Questo ci parlerebbe invece della professione o del lavoro che esercitava questo scheletro questo individuo femminile durante la sua vita. È interessante probabilmente si trattava di una suora perché ci parla del fatto che le suore che vivevano nei monasteri lavoravano come artiste già che nelle lavorazioni di manoscritti se erano di altissimo prestigio si utilizzava questo materiale il lapislazuli che proveniva dall'Afghanistan che era molto ma molto prezioso e quindi ci parla anche di artiste di alto prestigio. Una di queste artiste la conoscevamo grazie a un manoscritto statale e guda che il manoscritto dice era un artista che lavorava nella realizzazione di questi manoscritti di grande prestigio quindi anche questo grazie allo studio del tartaro. Qua vediamo invece quello che abbiamo accennato precedentemente smettiamo di parlare del tartaro invece sta deformazione artificiale questi tagli fatti sui denti è un tratto caratteristico se analizziamo la etnografia delle popolazioni dei bereberi del nord africa che è stato invece trovato in cimiteri della fine dell'alto medioevo in spagna in un cimitero a pamplona vicino ai pirinei e in un altro nell'area est della spagna ci parla della presenza di questi bereberi non sappiamo esattamente in che tipo di contesto ecco che cosa ci facevano sti bereberi in quel momento è in spagna ecco un altro elemento importante nello studio dei denti che si sta sviluppando di recente è lo studio della forma dei denti la morfologia dentaria che studia proprio la struttura e la forma dei denti che in genere è molto simile ma in alcuni casi ci sono delle variazioni rispetto a la norma soprattutto nella della corona e nella radice dentaria queste trasformazioni queste differenze non sono causate da malattie sono genetiche molto ereditabili e molto rare quindi il trovare ad esempio alcune caratteristiche particolari come in questa necropoli e longovarda a brescia montichiari dove sono stati trovati alcuni pochi individui con una caratteristica particolare nella radice dei denti vedete questo dente ha una doppia radice ha permesso uno dei nostri studenti realizzare tutto uno studio in cui si è dimostrato come questo tipo di caratteristica e particolare rara ma particolare dei cimiteri centro europei e anche particolarmente non frequente e si trova in una serie di individui che quindi dovremo relazionare come dire familiarmente in questo caso l'interessante vedete questo è uno di quei cimiteri a file caratteristichi del mondo germanico in questo caso longovardo che parlavamo che i cimiteri a file non hanno una distribuzione così ma qua il problema è che queste sepolture se sono della stessa famiglia avremo in teoria dovuti trovare in una fila o nella prossimità di una fila invece si trovano in direzione completamente opposta a quello che ci saremo immaginati ecco un'altra cosa che ci dice lo studio dei denti e delle loro variabili è che in genere quelli che presentano delle caratteristiche più diverse tra di loro sono le donne il cui potrebbe validare una ipotesi che dice che i popoli barbarici nel nostro caso i longobardi arrivano in una zona o mentre si muovono verso la zona di insediamento vanno rappendo o contrattando delle donne di altri gruppi che sono quindi molto diverse e con le origini molto variegate a differenza degli uomini che tendenzialmente appartengono a una stessa famiglia che si muovono verso la zona di insediamento vanno appartengono a una stessa famiglia che si muovono verso la zona di insediamento vanno appartengono a una stessa famiglia